Buongiorno Mr. and Mr. Lynch, it's September 23, 2021 and it's Thursday, Green Nipoles 79 Fahrenheit around 26 Celsius. Io credo che da oggi in poi provo a sperimentare e fare il weather report in italiano con sottotitoli in inglese, vediamo un po' come va, e poi cambio la frase storica che mi ha accompagnato, diciamo, durante quest'estate, ma la cambio per quanto riguarda il giorno, l'atmosfera del giorno, ma la cambio leggermente perché invece di dire questo significa che è un giorno veramente, 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 veramente caldo, da oggi in poi, poiché è autunno, iniziato l'autunno, questo significa che è un giorno Mite, 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 come in questi giorni, in questo periodo, infatti oggi è proprio una giornata mite, e oggi non sto pensando a nulla di particolare In ogni caso, come puoi vedere dalla mitica, quest'altra mitica finestra, noi abbiamo We have those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way E credo che l'avremo anche nei prossimi giorni, ma stiamo sempre a vedere Quindi, da questa altra mitica finestra, con... ...e la colora blanda, la colora blanda, le abbiamo ...on la cima, e, da questa griglia, non vissima, la prima volta, da mio mitica ARM, Buongiorno a tutti!